Finisce 2-1 a favore degli ospiti il derby tra Matese e Virtus Gioiesi allo stadio ferrante di Piedimonte. Il primo gol degli ospiti arriva al ventesimo del primo tempo con l'esperto Famiano, poi finalmente il pareggio dei Verde Oro con Granitto al quarantatresimo della prima frazione di gioco. Il tutto lasciava presagire un risultato di parità anche perché tutti si aspettavano un calo atletico della Virtus per le enormi energie spese per la buona parte della gara, ma non è stato così. A sorpresa la squadra di Camorano, che era più viva che mai, con Borrelli al ventesimo del secondo tempo chiudeva la gara. Per la cronaca il Matese per ben due volte ha scheggiato la traversa ma senza esito. Per la squadra del presidente Matera si è capito subito che era la classica giornata no. Al termine della partita la nostra Miriana Lanzone ha sentito prima mister Camorano della Virtus e poi il direttore sportivo del Matese Pietro Pacilio. Mister, una grande vittoria, se l'aspettava? Sì, sicuramente sì perché i ragazzi comunque queste tre partite venivano da tre sconfitte che il calendario non ci ha giudato un po'. Abbiamo beccato prima il Venafro, poi il Bastogiraldi e poi il Gemmatese. Tre squadre che mirano la lunga fino al campionato. Sono contento perché quando le altre squadre parlano delle altre squadre, la nostra non ha nomina neanche. Quando viene a fare il risultato contro una squadra che viene dalla Serie D, che è retrocessa e vuole fare tutto per portare di nuovo in Matese dalla Serie D, queste sono le migliori satisfezioni. Questo voglio fare un applauso alla mia squadra perché comunque in settimana abbiamo provato benissimo la partita. Oggi non posso dire niente, anche se la partita alla fine la poteva anche perdere, no? Però oggi i ragazzi hanno dato tutto. A parte gol, secondo lei, qual è stato il reparto decisivo? No, ma tutta la squadra. Oggi ho fatto i movimenti con tutti quanti. Perché comunque oggi, se ho deciso di fare un cambio, l'ho fatto solo perché i ragazzi non ce la facevano più perché comunque hanno dato il massimo. Una squadra che è tutto il reparto, oggi mi sono messo 3-5-2, abbiamo fatto, anche se a me piace giocare 4-3. Però ti ripeto, io studio le squadre avversarie, poi veniamo sui campi e poi ce la giochiamo tutti. Direttore, al di là del risultato, cosa non ha funzionato? Nel calcio non contano solo delle qualità tecniche, nome o quant'altro, conta che ha più fame. Oggi la fame e il gioia, anche con una buona preparazione tattica per la partita, è stata migliore di noi, bisogna fare i soli complimenti. Alla prossima gara è fondamentale vincere? Tutte le gare sono fondamentali vincere, però in questo momento, secondo me, non bisogna pensare alla prossima gara, ma bisogna prima pensare a quello che non ha funzionato e capire perché, perché si può perdere una partita, ma due consecutive bisogna iniziarsi a fare qualche domanda. Dallo Stadio Ferrante di Piedimonte e Matese è tutto, Mirana Lanzone per casertasera.it